Benvenuti e benvenute. Allora, io sono Simonetta Shandivashi, mi presento, sono una giornalista della stampa e stasera diamo il benvenuto a Saverio Raimondo. Buonasera, rispetto a Simonetta Shandivashi posso dire che è la persona più sobria che esiste in Italia, nel senso che abbiamo trascorso una mezz'ora insieme, a malapena ho sosseggiato l'acqua, io ho bevuto tre bicchieri di vino, è incredibile, davvero, fatela guidare. Esatto, tra l'altro io non ho la patente, però... Ma non importa, è comunque più sobria di chiunque abbia la patente in questa città, davvero. Grazie, questo è un feedback. Ti tenevo. Sì, grazie. Allora, stasera parliamo di questo libro, anzi no, parliamo di te, parliamo di tutto, parliamo della comicità, però parliamo anche del libro. Io sono molto, posso dire che sono molto emozionato di essere, cioè non so se voi avete percezione di questa istituzione al di fuori di questa istituzione, cioè io praticamente sono dentro un tempio in questo momento, io mi sento veramente di profanare qualcosa e chiedo scusa, ecco la premessa di questa serata è che chiedo scusa, io mi sono vestito da scrittore apposta per cercare di essere più o meno intonato al ruolo che mi trovo a ricoprire e chiedo scusa. C'è anche il lampadario. Ho notato, spero che non caschi. È la cosa più importante del dolce. È anche la più pesante, direi, e l'avete appesa al soffitto, è intelligente come è trovata, sì. È il lampadario che mi ricorda sempre la guerra dei roses, comunque noi potremmo finire là sotto se tu non la smetti di dire che io sono sobria, perché è una cosa quasi offensiva. No, scusami. Non volevo offenderti. Allora no, parliamo di questo libro, vuoi davvero parlare di questo libro? Voglio parlare di ciò di cui tu vuoi parlare. Voglio parlare di questo libro. Tutto questo è soltanto per sedurla, davvero, questo incontro è soltanto per sedurla. Bene, poi vi faremo sapere come vatti sotto il lampadario. Allora, Memorie di un elettore riluttante, che quindi è la condizione di tutti gli italiani, l'elettore riluttante, no? Temo di sì. Esatto. Allora, questo qui è un pamflet. Sì. Ho usato la parola giusta, non è un memoir. È anche un po' un memoir, però. Io credo che non parlerò stasera, io ascolterò lei parlare, davvero. È un pamflet, è una bellissima parola. È un pamflet. È un pamflet di riflessioni e proposte anche, come sono molto spesso i pamflet. Allora, la parte della riflessione è, ma la democrazia funziona davvero? Forse no. E perché non funziona? Perché è arbitraria? Adesso ci spiegherai tu le ragioni, perché io non voglio mettere parole che non sono le mie. Ok. Spiega tutto tu. Io ti do soltanto degli… Benissimo, perché sennò poi diventa compromettente. E poi la parte di proposta invece è, visto tutto quello che adesso tu ci spiegherai, che cosa possiamo fare per rendere la democrazia, il sistema del voto effettivamente valido? Ce lo spiegherai anche tu, perché qui c'è un rovesciamento, cioè la proposta di Saverio e Raimondo è molto seria. C'è una proposta. C'è una proposta. C'è una proposta. Non è che qui siamo disbattiti. Il libro è costruttivo. È costruttivo. C'è una proposta. Allora, sottoponiamo gli elettori alle stesse dinamiche a cui sottoponiamo quelli che andiamo ad eleggere. Giusto? Giusto. E questo, l'ho capito? Hai capito perfettamente. Ho capito tutto. Non avevo dubbi. Bene, ma nonostante io sia femmina. Ma ha maggior ragione, ha maggior ragione. Se la democrazia è il governo del popolo, non possiamo dirci in democrazia finché non possiamo decidere da quale popolo farci governare. Voglio dire, in democrazia sono i cittadini che decidono, ma questi elettori, chi li ha votati? Non li ha votati nessuno. Quindi siamo in un regime. Se vogliamo essere una democrazia, noi dobbiamo poter eleggere gli elettori. E già c'è la prima domanda. Questa cosa non mi stupisce. Ah, è stato il... No, guardi, non mi stupisce. È concorda. Bene. Segui la ringrazia. Però aspetta, però io ti devo dire, allora, questo libro qua che è molto divertente... Intanto comincio a spogliarmi. Cosa... Da dove parti? Esatto. Togli la... Esatto. Però il pantalone con il velluto a coste... Questa non la vola. Questa è il rappresentante di... Esatto. No, però questo libro, allora, che è molto serio in verità, secondo me, racconta un dramma. Cioè il fatto che non c'è nessun elettore in Italia, quindi tutti noi, non vedo minorenni, che è felice di andare a votare. Ed è un momento che ci mette grandemente in crisi, ma non soltanto perché la nostra classe politica è inadeguata e tutte le cose che ci continuiamo a dire in modo anche un po' facilone, ma proprio perché è il meccanismo che è contorto. Ora, prima di arrivare al punto del tuo libro, la domanda che io ti faccio è, ma noi questo libro lo possiamo, secondo te, inquadrare nella stanchezza occidentale? Perché la stanchezza occidentale è la stanchezza nei confronti della democrazia. È un tema di cui parliamo tantissimo, da molto tempo. Di stanchezza ne parlavamo anche un attimo fa. Noi parlavamo della stanchezza, la fatica del millennial, ragazzi. Il millennial che non è vero che è uno sdraiato, però questo è il tema di un altro libro. O degli ultimi momenti di questa presentazione, che prevedo che andrà molto... Sono sei ore di presentazione, vi avviso, vi avviso, sono sei ore di presentazione. Però è vero che siamo tutti stanchi della democrazia. Se vorremmo tutti quanti la cosa che racconti tu, no? Cioè vorremmo che ci fosse un consesso di intoccabili, perfetti, ai quali demandare il controllo di tutto, con una certa certezza che siano in grado di farlo, per poterci occupare poi della vita. Allora, questa cosa qua, che è molto affascinante, però in realtà smentisce anche l'idea che la politica abbia a che fare con la vita. Smentisce il coinvolgimento, che è la base della democrazia. Perché questa storia ci ha stufati? È vero che ci ha stufati? Anche a me ha stufato. Io mi sento inadeguata quando vado a votare, ma prima che inadeguata, stanca. Allora, intanto hai detto una cosa che non avevo mai pensato ed effettivamente è vero, cioè nessuno va a votare felice. Nel senso che c'è chi va a votare in maniera un po' reluttante, come il sottoscritto, che quindi fino all'ultimo giorno, ma non sono proprio sicuro, vado, non vado, se vado, per chi vado. Se ne accorge nessuno. Esatto, tanto non conta niente, uno su 60 milioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelli che vanno convintamente, ma non perché sono felici, ma perché sono arrabbiati. Che effettivamente non è esattamente il sentimento più costruttivo, no? Cioè se sei incazzato l'unica cosa che puoi fare è rompere i piatti. Quindi se ci pensate, il voto per rabbia, che è, credo, oggi come oggi, il voto maggioritario, è un voto distruttivo, non è mai un voto costruttivo. Allora, parto dall'oggi, parto dall'oggi. Tutti hanno puntato l'indice su questo 40% di astensionisti, no? Che effettivamente sono tanti, però visti i risultati non sono abbastanza. Ecco, io, obiettivamente, no? Cioè è ok, è una buona base, però possiamo ancora lavorarci, possiamo ancora lavorarci. Possiamo ingrossare le fila degli astensionisti, ok? Ok, io personalmente non sopporto questo moralismo nei confronti degli astensionisti. E lo dico alla persona che poi alla fine ha votato a queste ultime elezioni. Non sono di quelli che si è astenuto. Ma io non ho nulla contro gli astensionisti. Al contrario, a me preoccupa quel 60% che ancora vota. E soprattutto, la cosa che mal sopporto, in generale ho proprio un orticarne nei confronti della retorica applicata a qualunque cosa, ma poi c'è una retorica nei confronti della democrazia, delle elezioni, che io trovo proprio irritante all'ennesima potenza. Cioè, una cosa che si sente spesso, ma mi trovo molto a che fare con la TV e la radio pubblica, quindi mi capita spesso sentire questo discorso alla vigilia delle elezioni. Mi raccomando, votate. Non importa per chi, ma votate. Se non importa per chi, allora non è importante votare. È importante per chi voti. Non è vero che non è importante. Se non fosse importante per chi voti, allora non è importante votare. Cioè, è un discorso che si contraddice in maniera talmente lampante, che vuol dire che siamo veramente diventati tutti troppo stupidi per poter votare. Cioè, è vero già tanto che possiamo impugnare una matita, che ancora sappiamo opporre il pollice alle altre dita. È una retorica questa intollerante. E su questa cosa dovremmo tutti quanti un attimo svegliarci. Cioè, abbiamo trasformato la democrazia in un dogma. Siccome le chiese sono crollate, la nostra ultima religione è la democrazia. Quindi ciò che sceglie la maggioranza è giusto. Ma non è vero. Cioè, la maggioranza può anche sbagliare. È in maniera incredibile. E poi questo è un paese che ogni volta che c'è un voto di maggioranza, le ultime elezioni ne sono una dimostrazione, non va mai bene. No, certo. Cioè, anche il risultato elettorale è sempre... Tu fai dei discorsi magnifici con Socrate e Platone, che sono venuti a incontrarti. Sì, mi sono appare. Gli sono apparsi come... Mangio pesante la sera, quindi poi gli appagliano i filoso. Mangi il tonno la sera. Sì, esatto. Sì, esatto. La mia nonna diceva sempre che il tonno non bisogna mangiarlo. È una delle cose che non mangio il tonno. Esatto. Però tu usi questa cosa per dire questo punto qua, no? Cioè, alla fine, il voto scontenta tutti, sempre, nonostante... Allora, perché? Cioè, perché non riusciamo a... Perché ci ostiniamo? No, perché non riusciamo a rispettare il voto? Ti ho fatto una domanda pensando che tu fossi Nando Pagnoncelli, Pagnoncelli, invece non lo sei, però... Ma non riusciamo a rispettare il voto perché... È il punto vero quello, eh? La democrazia ci fa schifo a tutti quanti. La democrazia ci fa schifo, sì. Allora, innegabilmente la democrazia è la cosa migliore che abbiamo trovato, il che la dice lunga sugli altri sistemi di governo. Cioè, se la democrazia è la cosa migliore... Cioè, il fatto che quando noi diciamo che la democrazia è il miglior sistema che abbiamo trovato per governare, è il miglior mondo per screditare tutti gli altri sistemi. Perché la democrazia è talmente fallace che il fatto che gli altri siano peggiori vuol dire che proprio sono l'inferno in terra. E sicuramente, ripeto, lo strumento migliore. Il problema è degli strumenti. Cioè, lo vediamo con qualunque strumento abbiamo inventato nella storia che poi uno lo inventa ed è rudimentale. E poi lo perfeziona, no? Ecco, secondo me noi siamo un po' carenti su questo. Cioè, abbiamo appunto dogmaticizzato e uso per la prima volta nella mia vita il termine dogmaticizzato perché sono al circolo dei lettori. Perché davvero... Ho tolto il cielo, fan per voi. Spero ci sia qualcuno nell'Ansa che può dare... Esatto, che possa dire che abbia detto dogmaticizzato senza incespicare pure al terzo bicchiere di nebbiolo. Quindi davvero è notevole. Che non esiste, tra l'altro. È una parola che non esiste. Dogmaticizzato. Ma no, certo che no. L'ho inventata? Davvero? Ho inventato... Chiamate la crusca! Chiamate la crusca! E dopo Petaloso abbiamo... No, dai, dogmaticizzato non esiste. No, no, esiste. Però è così brutta che spero che non esiste. Lo so, ok, è brutta. È come la democrazia. È come attenzionare. È come la democrazia. Esatto. O comunque, insomma, gli strumenti, noi siamo... Noi esseri umani inventiamo gli strumenti e poi li perfezioniamo. Noi è un po' di tempo che non perfezioniamo questo strumento. Però perché non perfezioniamo lo strumento della democrazia? Perché siamo convinti che la democrazia è un fine e non un mezzo. Ma no, è esattamente il contrario. La democrazia è un mezzo, non un fine. Se noi un domani... Molto domani, perché non mi sembra che siamo in quella fase storica in cui abbiamo delle grandi pensate, ma se noi un domani dovessimo escogitare un sistema migliore della democrazia, io non avrei problemi a riconoscere che quel sistema è migliore anche se quel sistema è antidemocratico poiché non sarebbe un sistema democratico. Però se io dico di una cosa antidemocratica, noi siamo abituati, siamo anch'io, se io dico che una cosa è antidemocratica, è a un'accezione puramente negativa. Non può essere, scusami, post-democratico? Io sarei favorevolissimo alla post-democratica. Però proviamo a elaborarla, nel senso, la proposta che tu fai è esattamente... Non è antidemocratica in realtà. No, anzi, è iperdemocratica. No, è post-democratica. Cioè significa che sposta un meccanismo all'altro bacino d'utenza e lo rende... E lo rende responsabile. Lo rende responsabile, perché poi il punto è questo qui. Non è detto che si rende... Cioè, allora, votare è un diritto acquisito. Non può essere un diritto acquisito. Questo credo sia il punto del tuo libro. Il problema però è che tu dai un po' troppa fiducia ai vari step che una persona può fare per dimostrarsi capace di esprimere un voto. Cioè, è questo... La fiducia che si trova nel libro, un libro che comunque finisce male, ci tengo a dirlo, ma è... Finisce con lui dentro... No, non lo posso dire. Tu sei contrario agli spoiler. Ma questo non è un libro di narrativa, scusa. Io in realtà non ho nulla contro gli spoiler. Perché a me non mi interessa niente cosa una cosa racconta, ma come la racconta. Io sono un formalista, quindi... Voi immagino che tutti quanti qui abbiamo paura di morire. Vi ricordate Billy Crystal in Erity Presentoselli che leggeva tutti i libri dalla fine perché era sicuro che sarebbe morto. Ecco così. Allora, diciamo, come finisce questo libro? Diciamo come finisce questo libro. Con te che entri in una cabina elettorale e dici io resto qua. E resto lì. Non esco. Sto qua. Non esco. Non esco finché non avete risolto questa faccenda. Ma quale faccenda? Eh, la democrazia. Eh, ho capito. Questa democrazia votata allo sbando. Cioè, il problema è quello lì. Cioè, tendenzialmente... Io ho un... Ammetto, ho un pregiudizio positivo nei confronti dei complottisti. Spiego. Io ammiro la visione del mondo che hanno i complottisti perché è un mondo bellissimo. Cioè, i complottisti pensano che questo mondo sta andando in una direzione. Cioè, c'è gente che sta guidando il mondo verso una direzione. È un'idea bellissima. Contraria alla realtà. Perché la realtà è che il mondo sta andando a cazzo di cane. E credo che sia la prima volta che nel circo del torino venga detto a cazzo di cane. Mi rendo conto. Diciamo entropia. Entropia. Dici entropia. Ok, entropia. Questo mondo sta andando in entropia. Va bene? Ok. In entropia di cane. Stai andando in entropia di cane. Va bene così? Ecco, va bene così. Ok. Io ammiro i complottisti. Cioè, sono gli ultimi idealisti. Sono gli ultimi che pensano che tranquilli, è tutto sotto controllo. Non è sotto controllo niente. La grande menzogna di questi anni è che esistano i poteri forti. I poteri sono debolissimi. Ed è questo il problema dell'oggi. I poteri sono debolissimi perché sono alla nostra mercè. Siamo noi che decidiamo perché la democrazia si è effettivamente ormai impossessata di noi stessi. E noi non siamo in grado di decidere. E questo è il nostro problema che ci rifiutiamo però di vedere. Il libro parte dalla mia persona di considerazione che io non sono all'altezza di questo magnifico diritto che ci è stato dato di votare. Ma io non sono adeguato. E questa cosa io l'ho toccata proprio con mano ma nel senso proprio la mano è affondata nel torpido con i famigerati referendum con i quali negli ultimi anni siamo stati tartassati. Cioè, sono venuti a chiedere a me non solo a me, anche a voi ma a me se potevano trivellare in mezzo al mare. Ma io che cazzo ne so. Io sono laureato in dance, Simone. Lo so, lo so ma adesso è un momento di sfogo. Tu non sei laureato in dance. Tu sei laureato al dance. Al dance, bravissima. Quindi io che cazzo ne so le trivelle in mezzo al mare. Non lo so. Chiedilo a quelli che hanno fatto ingegneria. Io non lo so. Non lo so. Mi hanno chiesto hanno chiesto anche a voi ma hanno chiesto anche a me se potevano modificare la Costituzione. Io non lo so. Io non l'ho mai letta né ho mai visto il film. Io non so se si può modificare la Costituzione. Io quando Benigni parla della modificazione della Costituzione io mi rompo i coglioni e cambio perché è noiosissimo. Lo so è un momento liberatorio. L'acqua della Costituzione non ne sappiamo niente. Chiedete dai costituzionalisti se si può cambiare la Costituzione. Io non lo so. Voi non lo sapete ed è normale non saperlo perché facciamo delle vite molto complicate molto stancanti. Abbiamo persone care che stanno male persone che amiamo che ci lasciano e poi l'affitto e le bollette. Non abbiamo il tempo per sapere se possiamo riformare il CSM sigla che acronimo che peraltro non sappiamo neanche cosa sta perché CSM perché cosa sta non lo sappiamo non lo sappiamo dobbiamo no dobbiamo ammetterlo guardarci allo spec e dirgli e dirci non lo so non lo so e quindi è sbagliato che la classe politica venga a chiedercelo a noi perché la democrazia rappresentativa è proprio questo io non lo so pensaci tu pago te per sapere pago te voto te ammesso che abbia un senso votarti quello che tu voti ha bisogno della tua opinione cioè questo è il punto vero in realtà lui chiede la tua opinione è quello che è sbagliato è quello che è sbagliato perché una volta i partiti precedenti ci dicevano cosa pensare e quindi ci chiedevano soltanto la X adesso invece ci dicono qual è la tua opinione come pensi a pensi nero allora io dico nero dico nero dico nero dico nero quindi mi dai la X vero e questo è il problema il problema ma perché la politica è decaduta perché dipende da noi oggi la politica ci somiglia è per questo che è peggiore perché noi non siamo delle belle persone il problema ma è la verità non siamo delle belle persone a perché siamo persone che tendenzialmente non è proprio tra le specie animali siamo sicuramente quella meglio vestita ma comunque dipende dipende per esempio l'ermellino è tutto vestito di ermellino vedendo te insomma dire tra te un ghepardo sceglierai il ghepardo hai ragione me stasera sono travestito da scrittore è diverso è diverso di solito invece ti vedo di solito di solito mi gucci mi sono sempre travestito sono un impostore lo sai quindi appunto cioè noi siamo persone e di questo dobbiamo essere molto consapevoli la casta che è il famigerato libro no Rizzo Stella di cui c'è una parodia all'interno del mio libro c'è un capitolo che si chiama la vera casta che siamo noi il problema della casta è che punta l'indice sulla classe politica ma non è che gli elettori sono meglio gli elettori sono altrettanto disonesti corrotti immorali esattamente come i politici e quindi il problema come sempre quando uno cerca dei problemi è alla base la base della democrazia siamo noi è inutile riformare la legge elettorale se non ci riformiamo noi qualunque legge elettorale sarà pessima se saremo noi a votare ma è terribile lo so è terribile è terribile è terribile però la tua proposta qual è? sì un'oligarchia no allora eh no allora io lo ammetto io non ho una proposta ma del resto c'è 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 una modesta proposta c'è c'è il Raymondellum dentro questo libro c'è il Raymondellum ti rubo la coppia te la rendo c'è c'è una vera e propria legge elettorale che appunto come vi dicevo qui è è incredibile l'alletto l'alletto io sto provando una vera empatia e pietane con fronte di questa domanda perché l'alletto è impressionante ci ha passato nel tempo c'è davvero una proposta di legge dentro questo libro c'è c'è una proposta di legge per eleggere l'elettorato ok perché è inutile qualora questo governo faccia male cosa di quale ho un po' il sentore ma insomma qualora questo governo faccia male con chi ce lo dobbiamo prendere con Giorgio Meloni o con chi l'ha votata perché non è che lei ha fatto un golpe non è che è entrata nei palazzi del potere ce l'abbiamo mandata noi quindi è inutile che ce la prendiamo con le Meloni Berlusconi Renzi Salvini di turno prendiamocela con chi l'ha votati questa gente non ha il potere di suo il potere ce l'abbiamo noi quindi all'interno questo libro c'è effettivamente una proposta che è appunto eleggiamo gli elettori questa proposta si regge sul fatto che gli elettori si possono candidare cioè noi ci possiamo candidare elettori saremo noi stessi a decidere cioè lui si candida per eleggere io lo guardo non mi ispira fiducia no non lo voglio tu chi eh io io tu tu commissione tu chi sei no io elettore cioè gli elettori si eleggono tra di loro gli elettori si eleggono ovviamente l'elettore si deve a sua volta candidare perché ci può anche essere la persona che dice no guarda a me non interessa votare gli astenuti in 40% delle persone non si candiderebbero ai elettori per esempio secondo me in Italia l'80% forse anche l'80% buono 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 selezione vedi non solo selezione della classe dirigente cioè anzi no è assolutamente selezione della classe dirigente perché la selezione la classe dirigente in democrazia sono gli elettori siamo noi che dirigiamo il paese cioè questo discorso sempre facciamo alla classe dirigente la classe dirigente non sono le persone in giacca e cravata alla fiat o come si chiama adesso cioè la classe dirigente siamo noi nelle democrazie siamo noi siamo noi che diamo una direzione quindi la selezione della classe dirigente deve passare necessariamente per l'elettorato quindi la prima cosa da fare è se una persona si vuole candidare elettore deve ottenere l'election pass che è questo per forza perché il libro parte il libro parte dalla constatazione che se sta piovendo in questi giorni a Torino meno oggi sono arrivato non piove però no Napolino non piove no ah è straordinario però nelle langhe sì nelle langhe non piove nemmeno nelle langhe ok nel resto d'Italia piove d'accordo ok ok hanno messo il mose non si allaga più Venezia ma comunque piove ok ok nel resto d'Italia che ne so in Umbria in Toscana questo fine settimana secondo me la gente potrebbe andare a funghi perché è un buon momento per i funghi questo ok ma ci puoi andare solo se hai un patentino se no tu non li puoi raccogliere i funghi ok ok anche qui molto bene molto bene tu se domenica vuoi andare a funghi hai bisogno di un patentino d'accordo se domenica ci fossero delle elezioni invece tu puoi andare a votare comunque e questa cosa che la democrazia sia meno importante dei funghi a me mi lascia un po' perplesso cioè i funghi sono considerati dalla società un discorso un po' più delicato della democrazia che è ciò che ci governa siamo sicuri di essere nel giusto non è che siamo palesemente nel torto forse ci vorrebbe un patentino non è classismo perché non sto dicendo che questo patentino va da stabilito per censo ma per competenza ma scusami tu che cosa ne pensi del merito a questo punto perché tu mi stai raccontando tu quello che ci stai dicendo è che noi la carica di elettori sì ce la dovremmo conquistare ce la dovremmo conquistare noi abbiamo il diritto di conquistare quella carica bene però poi la dobbiamo conquistare A come B questo significa che ci sono dei criteri e i criteri il dibattito sul merito ce lo insegna possono essere stabiliti a avere un senso se si parte da una base di eguaglianza ma il punto della democrazia è che l'eguaglianza te la dà nel darti il voto se tu invece mi dici che io il voto me lo devo conquistare allora abbiamo tutti la possibilità di votare questo è come Aristotele che dice l'uomo tende al sapere ma non è detto che se lo prenda che è la verità però ho capito però qualcuno bisognerà votarlo per andare al governo perché altrimenti o anarchia o dittatura no 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 ma che qualcuno bisogna votarlo per andare al governo sono d'accordo il problema è chi decide chi lo vota è quello il problema cioè io continuo a pensare che il problema non è la classe politica il problema è chi la vota questa classe politica perché se questa classe politica non ci piace ripeto non sono dei golpisti non è gente che entra a Palazzo Chigi con l'aiuto dell'esercito è gente che entra a Palazzo Chigi con il nostro aiuto siamo noi responsabili e noi stiamo sfuggendo da ogni tipo di responsabilità quanti anni sono che diciamo accusiamo gli altri ma non ci viene il dubbio che forse il problema siamo noi a me questo dubbio è venuto tant'è vero non è la democrazia amore sono io bravissima esatto non sei tu democrazia sono io elettore sono io elettore che non sono all'altezza allora che succede dobbiamo abbassare questa democrazia al nostro livello il nostro livello è un livello da patentino cioè puoi votare ti puoi candidare elettore non ti puoi candidare elettore in questo libro io provo a fare questa proposta costruttiva dell'election pass per esempio che ripeto è un test rapido di educazione civica per vedere se una persona ha gli strumenti minimi per candidarsi a elettore quando un politico si candida alle elezioni ha bisogno delle firme deve raccogliere quante? 100.000 firme noi come elettori avremmo bisogno di ottenere l'election pass che a me che è più facile di 100.000 firme se hai studiato adesso lo vediamo vediamo a Torino quante persone otterrebbero l'election pass proviamo sono 5 domande facili voglio sottoporre il nostro pubblico il circolo dei elettori voglio vedere se al circolo dei elettori c'è qualcuno che otterrebbe l'election pass e quindi volendo si potrebbe candidare elettore vediamo proviamo mi dissocio lo capisco non ti prega niente non ti prega niente io vado dritto questa non è democrazia ma infatti siamo qui a contestarla no tu io io sono io che mi sto macchiando di questo reato allora prima domanda prima domanda è ancora lì è ancora lì l'Italia è una repubblica a presidenziale b parlamentare c per azioni d democratica del Congo la domanda è trabocchetto mi rendo conto scusa mi rendo conto la domanda è trabocchetto voi vorreste rispondere di lo so voi vorreste rispondere di lo so vi conosco seconda domanda da chi è nominato il presidente del consiglio a dipende b dal presidente della repubblica c dai senatori a vita d dai senatori a vita no la vostra risposta è no non è un referendum è a b c o d questa è la prova della democrazia esattamente questa comunque ve lo dico io la risposta era dal presidente della repubblica e a questo punto la terza domanda è chi elegge il presidente della repubblica a il parlamento in seduta comune più delegati regionali b il voto della giuria demoscopica della sala stampa e dell'orchestra più il televoto c la sisal il codacons è un rappresentante della guardia di finanza d l'academy of motion picture arts and science la la signora fa la prima della classe ok finora ne ha azzeccata una su cinque ok una su cinque ancora non è election pass quarta domanda attenzione questa è difficile potere legislativo esecutivo giudiziario indicare nell'ordine chi li detiene a le banche gli alieni gli ebrei b la germania la francia il vaticano c la motorizzazione civile i monopoli di stato la rai d il parlamento il governo la magistratura la A lo vedi lo vedi e questo è il circolo dei lettori di Torino ok l'eccellenza del paese la ZTL i votanti di sinistra eccoli qua eccoli qua eccoli qua per secondo loro il potere c'erano le banche gli alieni e gli ebrei e questi sono i migliori ultima domanda raschiamo il fondo ultima domanda l'unione europea A è un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale B è un gruppo pop sudcoreano C è una catena di supermercati D è la casa editrice dell'euro andate un'affanculo prego ti rendo il libro allora scusami in qualità di cosa tu hai scritto questo libro perché volevo farti cosa cioè quando uno scrive un libro sì ovviamente si dice ah dove voglio andare B a chi mi rivolgo C perché lo faccio e nel perché lo faccio c'è chi sono vuoi davvero la risposta vera sì voglio quella vera non ti faccio guarda la risposta vera è che Feltrinelli mi ha dato 4000 euro di anticipo quindi l'ho fatto per quello per il bonifico 4000 di anticipo ma poco no forse era 455 non mi ricordo sì tendo ad abbassare perché poi tolgo già l'iva io sono figlio di commercialista quindi tolgo già le tasse nette vabbè togli quella è rispettabilissima tra l'altro però nel momento in cui ti sei messo a scrivere hai pensato in ruolo di di comico satirico è no allora che cos'è un comico satirico lo vogliamo spiegare perché sapete che ultimamente abbiamo questo problema nei giornali si vede moltissimo ce lo dicevamo anche prima descrivere le cose è diventato un reato non si può e quindi le parole che ti descrivono perfettamente sono reato esatto sono probabilmente reato perché il comico satirico è abbastanza problematico e no perché tu non puoi scrivere un libro così pregnante da comico perché non lo dovrei vendere sul serio invece io l'ho preso molto sul serio ho sbagliato però per me è una proposta sensata io per le prossime elezioni vorrei proporre a Giannini di fare un grande editoriale che tenga conto della tua proposta no però davvero la domanda da parte degli scherzi è io credo che sia un problema che senti sul serio lo pensiamo tutti quanti ed è un problema anche molto generazionale perché la nostra generazione noi abbiamo più o meno la stessa età 50 sì poco di più io personalmente poco di più esatto te li porti benissimo grazie ti ringrazio però è vero che non abbiamo più quell'idea della politica che può incidere nelle nostre vite e quindi non ci andiamo a portare o meglio se può incidere può incidere negativamente quindi abbiamo questa idea che dobbiamo arginare la politica sì abbiamo un po' questa idea che è la destra esatto proteggere l'individuo dallo stato esatto esattamente abbiamo un po' questa idea sì esatto ora non mi ricordo più che cosa ti stavo chiedendo perché tu mi hai interrotto arriviamo dal comico satirico ecco il comico satirico allora che cosa significa comico satirico perché invece questa cosa qua secondo me è proprio tu hai parlato da cittadino non da comico e fa ridere ok non fa solo ridere però questo libro è un libro molto serio come tutta la comicità che illumina delle cose allora però qui non c'è tanto il comico satirico secondo me è una rivelazione no penso che ci sia il cittadino un po' preoccupato ah ma sicuro certo c'è però in questo tu ti rendi conto che quando parli da cittadino preoccupato sei un megafono di alcune per tante persone certo nel senso che io penso di non essere l'unico elettore reluttante in Italia anzi io spero con questo libro di ingrossare refila della riluttanza in democrazia che non vuol dire astenersi ma vuol dire porsi il problema e provare a capire se e cosa si può fare per originare quel problema fondamentalmente è un libro che mette in discussione appunto l'elettorato a cominciare dal sottoscritto e poi per allargarsi a tutto il circolo dei lettori ecco è un libro satirico nella misura in cui è un libro spero divertente e credo anche irritante è un libro fastidioso ma tanto ormai dà fastidio qualsiasi cosa dà fastidio qualunque cosa questo libro di più tu dici che questa camicia è verde ma come ti permetti perpetri uno schema patriarcale quindi stai dicendo che è di colore esatto no no il problema non è che è tutto irritante è che siamo tutti permalosi questo è è una cosa molto molto triste perché vuol dire che ci consideriamo tutti importanti ed è tutta colpa della L'Oreal la L'Oreal perché la L'Oreal fece quello spot io conto perché voi valete perché voi valete non è vero non è vero signora cos'era non era L'Oreal io valgo è L'Oreal L'Oreal è L'Oreal ma è vero tant'è che voto non sono sicuro cioè io sono sicuro che tu vali ma in generale ma in generale se tu vali lo so è una mentalità però un po' lo devi dimostrare cioè devi dimostrare il tuo valore il fatto di eventualmente se poi scopri di non valere e altra cosa è questa abbiamo confuso tutto questo non c'è tra niente con il libro comunque ormai ci siamo dentro il valere con l'esistere ma invece si può esistere anche senza valere niente c'è anche questa cosa che potremmo tranquillamente il grande problema dell'eccellenza no? questo è il vero la vera questione poi del merito per quanto mi riguarda i ragazzi in piazza che lo dicono bene cioè alla fine quello che abbiamo costruito è un sistema tale per cui l'accesso al lavoro all'istruzione è dato solo a quelli che dimostrano di essere eccellenti invece mediamente ci sono le persone normali che sembra che sia una cosa brutta sdraiati scansafatica invece sono soltanto delle persone normali che hanno diritto essere persone normali è normale anche schifo ogni tanto ma certo è nella nostra normalità fare schifo è un'eccezione quando non lo facciamo però vedi la democrazia dà il diritto di voto anche a chi fa schifo io qui che ti voglio quello secondo me è un po' un problema nel senso che è normale fare schifo ma è normale farci governare dal fare schifo no però noi non ci facciamo governare dal fare schifo ci facciamo governare da una media dalla media di persone che scelgono e tra quelli ma il fare schifo è sopra la media è molto sopra la media dai secondo il tuo criterio ok io sono un pessimista no di ragazzo comunque cresciuto a pane e fi in veste che ha un'idea no quando hai detto pane e fi pensavo però tu dici aspetta tu dici che tua mamma ha votato aspetta tu vieni da una famiglia di sinistra con la mamma che ha votato democrazia cristiana e poi al primissimissimo voto e poi ha smesso poi ha cominciato a votare sinistra costretta da tuo padre no io no no io dico lei ha cominciato a votare poi allora c'era Berlingue ha cominciato a votare dopo aver votato la prima volta dopo la prima volta ha votato la democrazia cristiana perché i suoi genitori mia madre del 1950 votavano la democrazia cristiana quindi il suo primo voto è stato la democrazia cristiana poi dal secondo voto ha cominciato a votare quello che l'allora era il PC e io mi interrogo nel libro potrebbe averlo fatto o perché aveva incontrato mio padre che votava già PC o per il carisma di Berlinguer stando alla come dire all'affezione al legame che c'è fra i miei genitori credo per il carisma di Berlinguer mia madre abbia votato che comunque ce l'aveva che comunque ce l'aveva almeno per l'epoca era efficace quindi quindi sì io nasco in una famiglia cattolica di sinistra quindi senso di colpa e senso civico tutto insieme nel libro sì 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 esatto sì scusami allora però non mi hai ancora detto se l'hai scritto da comico satirico ma non è in più allora io ritengo di averlo scritto da comico satirico ma il comico satirico ovviamente non è un'entità strata il comico satirico è un'espressione nel mio caso anche di una persona che inevitabilmente è anche un cittadino che inevitabilmente è un elettore sì è un libro molto preoccupato ma la satira ha a che fare con la democrazia la satira ha a che fare con la democrazia è il puntello della democrazia non ha a che fare solo con la democrazia ma sicuramente ha a che fa ha molta più libertà d'azione nella democrazia ecco questo dobbiamo sempre ricordarcelo e il rivendico di questo libro è il fatto che sia un libro di satira politica dove non ci sono battute sui politici è vero ma ci sono battute sugli elettori perché credo che sia questo il senso della democrazia della satira in democrazia cioè se io fossi in Russia farei satira su Putin se io fossi in Cina farei satira su Xi Jinping ma io sono in Italia quindi faccio satira sugli elettori italiani perché non chi ci governa non ha non si è messo come ho detto prima non si è messo il governo ce lo abbiamo messo quindi se la satira va contro il potere come è per antonomasia il potere in democrazia ce l'hanno gli elettori quindi in una democrazia la satira va fatta contro le persone contro la gente contro i cittadini non contro i politici che sono lì per caso o meglio lì perché ce l'abbiamo messi noi ma tra cinque anni ce li togliamo anche perché ci stanchiamo subito siamo capricciosi discontanti non mi piace più oggi sono matta oggi mi fate votare meloni cioè così e oggi è che così cioè così siamo capricciosi incostanti e siamo noi che comandiamo cioè siamo noi nella stanza dei bottoni tu hai in comune con questi qua di cui non ti vuoi occupare perché ti occupi degli elettori però con questi che stanno lì per caso hai in comune il problema del consenso io il problema del consenso e beh sì ce l'hai no tu ti devo confrontarmi anche con sì però a me mi basta il giusto cioè il tanto per sopravvivere e far sì che delle persone degli editori in generale mi richiamino e mi continuino a pagare no non è vero io mi sono molto interrogato su cioè adesso entriamo in un discorso quasi esistenziale vai cioè sul fatto che tendenzialmente chi fa questo lavoro che consiste sostanzialmente a fare spettacolo in un certo senso no che sia sotto forma di libro o altro in generale ma a maggior ragione in questo momento storico sono tutti molto a caccia del 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 successo no pensa ai follower no che sono proprio la numericizzazione la quantificazione di quella cosa numericizzazione posso garantirti che non esiste non esiste però l'ho detto comunque senza inciospicare comunque rivendico questa cosa chiamiamo comunque la crusca chiamiamo comunque la crusca ma urgentemente però domani mattina dici non intervengono adesso no in realtà rifletto non c'è niente con tutto questo comunque non sono minimamente interessato al al picco perché il picco è sempre l'anticamera della caduta la grande strategia non bisogna mai avere successo nella vita bisogna sempre galleggiare però tu lavori per la RAI galleggio ma non galleggio per la RAI il foglio la repubblica ti faremmo scrivere pure sulla stampa ma non puoi perché stai su repubblica scrivi per feltrinelli fai netflix però comunque guarda dove è che non sei due sedie vuote un'altra sedia vuote quattro sedie vuote capito ma quella è la democrazia esatto io così voglio cioè io ho sempre non ho alcuna invidia per il collega chiamiamo così che ha la fila fuori ma quella roba lì perché quella roba lì finisce mentre questa roba qui può crescere non finirà mai non sono romantico ragazze questa roba qui è per sempre potrebbe decrescere cioè che fai se diventi una di nicchia può crescere o decrescere io sono la nicchia ma tu non sei di nicchia io sono la nicchia tu ti prego ma dai sei alle parole di Gramellini ogni sabato sera ma che vuol dire ma non vuol dire le parole di Gramellini come dico sempre a Gramellini è seguito dalle vecchie ma non è vero scusami mia madre che ha quanti anni ha mamma mamma 64 ok ti rivelo che comincia a entrare comincia comincia ancora ancora è edà adulta ok ok si è edà adulta no però la posizione del consenso per un comico in questo momento secondo me è cruciale nel senso che però non mi piace parlarne in termini consenso cioè io dimmi la parola giusta qual è nel senso che io capisco che è ambizioso però deve essere così e se non è così allora non può essere cioè io posso ridere di un comico satirico anche se non sono minimamente d'accordo con quello che sta dicendo perché poi la satire è questo cioè io non sono d'accordo con Swift quando dice in una modesta proposta per risolvere il problema della povertà mangiamoci i bambini poveri anche perché Swift non vuole che io sia d'accordo il grande cortocircuito che abbiamo con la satire è questo cioè la satire non deve dire cose dicibili e pensabili se tu sei d'accordo con un comico satirico è un problema tuo e del comico satirico il comico satirico non deve dire cose condivisibili il comico satirico deve dire cose inaccettabili ma molto divertenti e pensabili il comico satirico deve dire il retropensiero che tutti noi abbiamo perché che ci piaccia o no per quanto possiamo essere di sinistra a favore dell'integrazione aperte LGBTQ non lo dire con questa stanchezza ebbè ma come siamo tutti esausti siamo tutti per quanto ma invece è su questo che vince Meloni per quanto possiamo essere le persone migliori del mondo dentro qua dentro inevitabilmente pensiamo muori inevitabilmente perché è così è così è così io mi dissocio perché perdo il lavoro io mi dissocio tu ti dissoci mentre ti dissoci dentro di te stai pensando Saverio muori che hai detto questa cosa è quello il punto è quello il punto è quello il punto allora qual è allora la satira ammesso che abbia un ruolo perché faccio dire qual è il ruolo della satira la domanda terribile la satira non ha la satira non è particolarmente costruttiva nel senso che l'abbiamo visto storicamente Aristofale scrive l'isistrata no per grande satira contro la guerra a favore della pace non mi pare che abbia funzionato quindi possiamo dire che la satira non è particolarmente efficace ma ha un ruolo sociale cioè la satira deve dire le cose che noi inevitabilmente senza colpa è inevitabile pensiamo ma non sono costruttive la satira le deve dire le deve esprimere perché se nessuno le dice quel pensiero viene represso e come tutto ciò che viene represso e viene schiacciato prima o poi salta scoppia e quindi se non sarà un comico satirico a dirlo il comico satirico le cose le dice sai quando stappi la bottiglia per non far partire il tappo e fai fai sfogare il gas no che fatti far ridere esattamente come la satira cioè la fai un po' fai scoreggiare un po' la bottiglia di spumante no di champagne no ok questo fa il comico satirico salta ecco perché il comico satirico ha un ruolo non particolarmente incisivo ma comunque minimamente costruttivo all'interno della società perché sfoga dice quello che non possiamo dire se ne assume lui la responsabilità se ne fa carico nel dire certe cose le decostruisce cioè le ridicolizza io qualunque cosa dica è ridicola data la mia postura il mio corpo e la mia voce quindi sono prestabilita io ti trovo bello io ti ringrazio anch'io ti trovo molto bella grazie fai niente le luci per favore grazie hai detto decostruisce quindi mi sono convinto eh lo so decostruisce decostruisce ti tilla molto sì mi rendo conto quindi il valore il ruolo della satira è quella roba lì è necessaria è per quello che bisogna lasciare parlare i comici perché sennò le parole assumono un'eccessiva un'eccessiva importanza un'eccessivo peso un'eccessiva violenza è la vecchissima lezione di Lenny Bruce che diceva affinché la parola e lo sto per dire tenetevi forte negro oddio affinché quella la parola negro non sia più forte offensiva bisogna dire in continuazione negro 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 e dopo un po' diventa semplicemente un suono e perde il suo peso la sua forza e quindi quando io scaglierò la parola negro non avrà alcuna forza mentre se noi diamo a quelle parole una sacralità chi vorrà usarle in maniera offensiva potrà farlo e noi dobbiamo togliere a quelle parole la violenza e l'unico modo per togliere violenza le parole è ridicolizzandole che è quello che fa un comico satirico ti stai dando un ruolo molto politico è un ruolo culturale antropologico culturale è politico secondo me hai ragione quindi stasera mi sa che ti sei preso un bell'impegno se volete comincio a fare non lo so fare le scorreggio con le ascelle sennò lo farei no dai sennò lo farei no no non lo fare però è vero che tu un po' di tempo fa in un'intervista che avevo fatto un po' di tempo fa mi hai detto che questo è un paese dove non esiste il politicamente corretto per una ragione perché non è mai esistito non è mai esistito neanche il politicamente corretto io ci posso stare c'era un'altra cosa che tu mi dicevi e cioè che e qui vengo alla domanda che io ti voglio fare non c'è nessuno che offende ma c'è sempre qualcuno che si sente offeso io questa cosa la vedo è un dramma oddio è una un qualcosa che succede moltissimo con i giornali nei giornali molto spesso pubblichiamo delle cose che sono dei racconti problematici e che però sono un'offesa in sé no vengono recepiti come un'offesa allora a domanda che cos'è un'offesa io penso che tu te la debba fare questa domanda qui noi ce la facciamo cos'è un'offesa e B ho il dovere di tutelare chi mi legge dalla possibilità che si senta offeso e non dalla possibilità che io possa offenderlo ma che si senta offeso che sono due cose diverse allora io sono mi sono interrogato molto su questo sono arrivata alla seguente dimmi la verità può darsi io accetto se tu mi dici non me ne frega niente non è che non me ne frega niente è diverso cioè domanda non retorica siete d'accordo che esistere condurre un'esistenza essere vivi è offensivo no significhi per lo più per lo più tendenzialmente o se non tendenzialmente abbastanza spesso insomma avere a che fare con esperienze spiacevoli cioè ammetterete che nella vita ne capitano diverse penso a non lo so il cancro il licenziamento l'ictus il cuore spezzato no ci sono tante cose molto Sanremo Sanremo alle volte sì quando vince quello per cui non tifi per esempio l'esistenza è un corollario di brutte esperienze personalmente la mia è una visione abbastanza pessimistica l'esistenza è fatta per lo più di esperienze negative una parte di esperienze né negative né positive e una minima parte di esperienze positive che però sono talmente piacevoli che vale la pena assorbirsi tutto quel restante 80% fra indifè perché dici che c'è quel 20% di positivo che ok è solo il 20% però ragazzi a me quella roba lì quanto mi piace e quindi ok accetto tutto il resto pur di farmi quel 20% però tendenzialmente esistere è inevitabile per come siamo fatti siamo esseri finiti però che tendono all'infinito ci siamo condannati a questa roba molto triste quindi inevitabilmente esistere è spiacevole tra le spiacevolezze della vita vi ricordo il cancro l'ictus il divorzio il cuore spezzato il covid il covid ma anche addirittura l'emorroity ok in questo corollario infinito perché ne ho dette veramente ho fatto sei esempi potremmo farne sei milioni se non sei miliardi di esempi di esperienze spiacevoli l'essere offesi allora se a me mi viene da me e mi dici sente io ti prometto che nella vita dispiacevole ti succederà solo di essere offeso dimmi dove devo firmare dimmi dove devo essere offesi nella vita non è così grave ammesso che sia giusto che tu ti senta offeso perché la maggior parte delle volte la gente si sente offesa da persone che non avevano alcuna intenzione di offendere non hanno detto niente di offensivo ma ammesso che quella persona ti abbia offeso e abbia effettivamente detto qualcosa di offensivo e vabbè e vabbè cioè Paolo Conte Paolo Conte dice come piove bene sugli impermeabili non sull'anima forse più che lavorare a sta cazzo di empatia più di lavorare a questa empatia dovremmo lavorare tutti a una maggiore un pochino di impermeabilizzazione un pochino perché purtroppo vivere è difficile non è facile abbiamo bisogno di strumenti per affrontare la realtà e la realtà nella migliore delle ipotesi nella migliore delle ipotesi è offensiva dobbiamo accettare di essere offesi perché essere offesi non è grave è un problema da nulla scivola addosso lasciamo che le offese scivoli addosso rilassiamoci molto difficile non è grave non è grave allora pensavo che noi abbiamo tirato in ballo uno serio abbiamo parlato di Socrate Platone nei cittadini diversi però c'è le Tocqueville che dice banalizziamolo molto semplifichiamolo molto però in fondo dice una cosa sensata cioè che la democrazia è fondata su una grande frustrazione perché tu per far parte di un consesso comunitario devi naturalmente rinunciare ad alcune cose a cui tieni allora questo tarlo qua come lo risolviamo nella tua democrazia dove gli elettori vengono votati da altri elettori perché questo questo è il vero problema della democrazia io ho un'idea magnifica di come potrebbe andare il mondo tu hai la tua ce l'abbiamo siamo tutti dei potenziali dittatori certo e la democrazia non fa altro che foraggiare questa cosa no no a mio parere la depotenzia invece perché ti dice se tu rinunci a questo tuo sogno io ti do degli altri benefici forse sono ho capito qui abbiamo quei benefici sono dimezzati perché paghiamo le tasse troppo alte ma insomma se vai in Norvegia sono felici in democrazia vero allora questa frustrazione del sé e del sé fanno parte anche ne abbiamo parlato tutta la sera le pulsioni terribili sì ok quanto è giusta e nella tua idea di democrazia quanto c'è allora intanto devo farti una rivelazione no non mi sconvolgere ti prego non lo so nel senso la l'idea che c'è lì dentro io so non essere efficace mi dispiace molto cioè io so che il raimondellum non può funzionare dentro la dimensione narrativa è uscendo la dimensione narrativa io sono un grandissimo sostenitore del compromesso il compromesso viene sempre considerato in termini negativi ma io sono convinto il compromesso è una cosa magnifica compromettersi è una cosa come mi comprometterei io volentieri con molte fra voi cioè nel senso è molto bello compromettersi cioè è un è l'incontro il compromesso è l'incontro la democrazia è il compromesso saverio appunto allora però tu hai scritto un libro contro contro gli elettori nel senso che noi elettori stiamo svilendo la democrazia la stiamo piegando ai nostri interessi la democrazia è uno strumento che deve fare l'interesse comune la giustizia che non siamo però noi a causa inevitabilmente per i nostri strumenti a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato cioè ripeto la democrazia oggi è al servizio dei nostri capricci perché i politici stanno guardano i sondaggi guardano cosa ci va e in base a quello che ci piace fanno i programmi e fanno le promesse questa cosa è sbagliata non è così io da elettore non voglio dirti cosa fare io da elettore voglio sapere a te politico che facciamo come si risolve questa situazione il problema è invece che siamo tutti un po' troppo sicuri di quale sia la soluzione e invece dovremmo essere appunto più riluttanti molto più insicuri in cabina elettorale e questa insicurezza noi la dobbiamo trasmettere alla classe politica perché oggi la classe politica è spaventata da noi è completamente succube dei nostri gusti di quello che noi gridiamo perché di solito lo gridiamo una volta si gridava in piazza adesso si gridava sui social che amplificano molto di più delle piazze quindi stanno lì che guardano cosa scriviamo su facebook su twitter su instagram i nostri video su tiktok e dicono vedi la gente pensa questa cosa promettiamogliela ma non è così perché la classe politica deve controllare la realtà affinché la nostra vita poi possa anche eventualmente migliorare qual è la domanda nessuno non ti preoccupare va bene ho una domanda complicata che cos'è il potere è una buona domanda in effetti è difficile dare una risposta esatta il potere è in qualche modo è il controllo è l'esercizio di un controllo lo so sto improvvisando questa risposta posso aiutare? sì una volta una scrittrice che io amo moltissimo che è Valeria Parrella mi ha dato una risposta stupenda sul potere tenendo conto anche del fatto che soprattutto per le donne è sempre una parola un po' problematica che fa sempre un po' paura cioè se dici che ti piace il potere allora sei maschile e lei mi ha detto banalmente basta stare alla parola è il poter fare le cose questa cosa noi ce la dimentiamo molto spesso perché l'idea populista di potere è coercitiva è bene cioè il controllo sulle cose e invece è il poter esercitare non una correzione però un'azione sulle cose così come sono noi abbiamo aperto questo incontro dicendo che il mondo tende all'entropia al caos ed è vero però il potere degli esseri umani donne e uomini non mi interessa però delle persone forse è quello esercitare una forza su questo sul caos che ne dici e forse e allora la democrazia secondo me è la cosa è l'invenzione migliore in questo senso fino a questo momento che noi abbiamo fatto quindi che il tuo libro voglia correggere i meccanismi che io credo saranno sempre perfettibili della democrazia allora mi trova mi trova concorde quello che non mi trova concorde è quello che un inavvertito lettore potrebbe pensare cioè che questo è un libro che smantella la democrazia ovvero io penso che fin tanto che siamo occidentali non possiamo pensarci fuori dalla democrazia e questo è e nel tuo libro io credo che ci sia è un appello alla responsabilità cioè il problema vero è che la democrazia ci viene tramandata a un certo punto la acquisiamo acquisiamo questo diritto di andare a votare a 18 anni tu hai ragione a raccontare che cosa sia il libro si apre con lui 18enne che viene visitato non non dall'arcangelo Gabriele ma da Socrate mi pare dallo spirito della democrazia dallo spirito della democrazia gli dice da adesso puoi votare e io me lo ricordo a 18 anni che cos'ero non leggevo i giornali non d'altro canto c'è l'altro problema ovvero è così certo che per avere questo potere noi siamo tenuti a doverci impegnare io io mi ci sono interrogata a lungo e penso di sì penso che un posto che produce un mondo che produce questa cosa qua impone un nostro impegno e allora forse questo questo lo dobbiamo tu comico io giornalista voi cittadini con tutti i vostri lavori lo dovete rivendicare e anche imporre questo è il momento in cui dobbiamo smetterla di parlare di diritti questo è un tempo che parla troppo di diritti e parlare di cominciare a parlare di doveri che sono acquisizione di diritti ho fatto un bellissimo Simonetta Ciannivaci signore e signori grazie ha detto tutto lei ha detto tutto lei ha ragione lei ha ragione lei assolutamente ma infatti il libro è chiedo di diventare sindaco di Matera come minimo sindaco d'Italia sindaco d'Italia il libro è Destruens e non è questo il libro è Destruens ma la satira è sempre ironica paradossale iperbolica quindi su essere Destruens in realtà nasconde un'anima esatto ma è questa cosa qua secondo te il tuo libro esattamente confermo alla tua età 38 a gennaio 39 da millennial perché poi quando ci siamo visti prima qua fuori ci parlavamo della nostra della nostra generazione che secondo me non ha perso no no però ecco forse adesso è nell'età adulta noi dovremmo a un certo punto ricordare a tutti quanti che siamo diventati adulti quanto ecco però il punto è quello non te va no ascolta viviamo in un mondo che è diviso tra giovani e vecchi nessuno che si rivendica come adulto nessuno vuole essere adulto è vero che cos'è un adulto? un adulto è una persona responsabile nel pieno delle sue facoltà e possibilità qualunque siano le sue facoltà e le sue possibilità e le deve esercitare le deve esercitare questo è un adulto e invece un bambino è una domanda più difficile del mondo è come se ti chiedessi che cos'è un colore infatti è un bambino da questo punto di vista è una è una persona in divenire ha bisogno di tempo e di esperienze e dobbiamo cercare di dargli il miglior tempo e le migliori esperienze possibili consapevoli del fatto che la realtà poi riserverà comunque pessimo tempo e cattive esperienze ma servono anche quelle però appunto proprio perché è la realtà che darà cattivo tempo e cattive esperienze ai bambini noi tanto ci pensa già la realtà noi dobbiamo cercare ai bambini di garantire il miglior tempo e le migliori esperienze possibili senti Saverio tu sei un intellettuale no ma dai ho fatto le scuole dell'obbligo questo sì però da qui a cos'è un intellettuale però hai scritto un libro lo scrivono tutti lo scrivi sui giornali c'è la crisi della carta stampata l'hai saputo questo sì lo so però no però no invece tu no però aspetta so leggere e scrivere tutto qua sì però e far di conto e far di conto ma chi lo dici no 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 fidati guarda non c'è giorno a cui non pensi ai conti sì 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 però quando uno fa il comico sì tu fai il comico scrivi libri e interviene sui giornali tu non scrivi sui giornali intervieni perché i giornalisti scrivono sui giornali interessante gli esterni intervengono intervenire è un verbo bellissimo bello sì mi piace allora intervengo io intervieni te allora quando è che scrivi un pezzo quando hai da dire quando hai da sfottere quando hai visto quando vuoi chiarire una cosa cioè il ruolo tuo vista la tua funzione pubblica quello che tu sei nella tua vita che cosa ha a che fare con i giornali allora è innegabile che avendo io delle rubriche comunque con una cadenza immagino poi molto pagato benissimo no ovviamente no no è tutto pagato male però è tutto pagato male non solo sui giornali è una verità la televisione oggi paga male la radio oggi paga male tutto pagato male quindi devi fare tante cose devi fare tante cose perché pagato male più pagato male più pagato male più pagato male fa pagato benone quindi questo è il motivo per cui ho grande solidarietà nei confronti dei cosiddetti prezzemolini perché dico ragazzi purtroppo il mutuo a tasso variabile è un problema allora quindi ho una cadenza io devo in un certo senso avere qualcosa da dire banalmente una volta alla settimana che è di solito la mia cadenza tantissimo che è tantissimo infatti io non invidio affatto quelli che hanno da dire qualcosa tutti i giorni cosa mi garantisce l'avere qualcosa da dire qui siamo proprio a i segreti di bottega ciò che ti garantisce di avere qualcosa da dire è la frustrazione e la repressione se sei una persona frustrata e repressa avrai sempre qualcosa da dire quando sarai finalmente una persona soddisfatta non avrai più niente da dire infatti benigni una volta vinto l'oscar è finito tu sei felice no tu sei felice no ma non lo è nessuno nessuno non è vero io conosco un sacco di persone felici vabbè contento alle volte sì allegro alle volte l'allegria che cos'è l'allegria è un senso di leggerezza un riuscire pur consapevole della morte a dire ok sì morirò ma non è adesso no è vero perché l'allegria è questa roba qua cioè è che tu sei contento quando comunque hai presente quel peso nel cuore assolutamente sì il peso l'allegria è una cosa magnifica forse la gente felice è la gente che non ha consapevolezza del peso vabbè perché tanto dura poco tu ci credi a questa cosa che la felicità dura poco la felicità non esiste perché è basata sono sicuro io personalmente sono sicuro perché è basata su un presupposto che è infattibile e anzi è la cosa che ci ha danneggiato pensare che come l'amore romantico no l'amore romantico è carino dai ma esiste o no? sì poi magari l'abbiamo un po' troppo a nostra volta l'abbiamo idealizzato l'amore romantico ma l'amore romantico in sé esiste sì poi non è detto che abbia un finale romantico cioè dobbiamo impegnarci perché il finale dell'amore romantico sia romantico però esiste o resiste sì mentre la felicità no sicuramente nella vita si può essere o tristi o infelici e io vi auguro a tutti di essere tristi e di non essere mai infelici infelici è brutto per i stai è ok mi sembra magnifico come dire possiamo andare a scusami un'ultima domanda non so quanto quanto tempo abbiamo il tempo con te corre grazie quando ci si diverte ma lei deve tornare al giornale quindi dito ci vorrei no no non torno al giornale adesso chiudiamo alle dieci ah ok sono le dieci e mezza ma è magnifico e siete rimasti qui esatto no allora un elettore contento chi è ma l'elettore contento è quello che ha vinto la sua squadra e però allora sarai con me che la content che la democrazia non dovrebbe promuovere la contentezza cioè abbiamo trasformato la democrazia appunto in una in un match sportivo tifoserie io non devo essere contento del risultato elettorale devo essere eventualmente contento di un risultato in un governo a menso non concesso che quel governo si sia instaurato grazie al mio voto cosa che comunque è perché poi in realtà hanno pensato c'è il governo cioè poi io non sopporto questa cosa che il governo non lavora con l'opposizione cioè questa cosa io amo i governi dell'argentese capisco allora non voglio fare battute che sarebbero piccanti ma il ruolo di un elettore finisce nel momento in cui va a votare eh no non dovrebbe assolutamente non dovrebbe assolutamente al contrario cioè il voto dovrebbe essere l'espressione finale di un lavoro molto lungo di un ruolo molto lungo così è molto è molto complicato è molto è il motivo per cui appunto la democrazia è un po' complicata è il motivo per cui io provo una ecco un'empatia nei confronti degli elettori cioè la democrazia per così come è pensata così come è pensata così come la stiamo vivendo richiederebbe per funzionare uno sforzo da parte nostra che io sono il primo a dire non dobbiamo deresponsabilizzarci dobbiamo assumerci le responsabilità io sono proprio questo proprio cattolico cioè dobbiamo prendere la croce sali sul gol io su questo sono con proprio ci sto dentro ci sto dentro ok dammi la croce vai vai mettimi la corona salgo su ma è tanto lo sforzo che ci viene chiesto la democrazia dipende la democrazia così come è fatta così come stiamo vivendo dipende da noi ma affinché noi la si possa far funzionare bene dovremmo impiegare un tale sforzo un tale sforzo ma un tale sforzo che io lo capisco che non sia possibile perché appunto poi c'è il resto della vita non siamo pagati per essere lettori e quindi mi chiedo come la sistemiamo questa cosa non lo so e non devo essere a dirlo perché io appunto sono laureato in dams anzi al dams faccio il comico non dovete chiedere a me qual è la soluzione io con il libro indico il problema cioè esiste un problema non neghiamoci questo problema questo libro se proprio serve a qualcosa è assumere consapevolezza di questo problema capiamo a chi chiedere la soluzione io non ce l'ho ma abbiamo bisogno di questa soluzione quindi abbiamo bisogno di capire a chi chiederla hai fatto il giornalista sì sì hai fatto il giornalista noi tutte le volte diciamo noi indichiamo il problema non abbiamo la soluzione bravissima bravissima e campiamo cent'anni grazie grazie simonetta scianivashi saverio raimondo grazie a tutti è stato un piacere e un onore